signori buongiorno e bentornati sul canale del master kai io sono il master kai il vostro ospite su questo canale e questa settimana un video dedicato a un troppo particolare questo intero video viene da una discussione che è avvenuta sul gruppo telegram del master kai quando io alla fine di ogni video vi dico di passare sul gruppo telegram perché escono cose interessanti mi riferisco proprio a roba come questo l'argomento di questa settimana lo dobbiamo a memento mori uno degli utenti più attivi della community che in realtà oramai qualche mese fa a che vedrete il video aveva proposto una riflessione su un troppo molto classico che lui ha definito davide contro golia quindi cos'è il troppo di davide contro golia francamente se siete confusi si lo sono anch'io perché io questo troppo lo conoscevo come la sporca dozzina ma in realtà davide contro golia è un nome molto più attinente indipendentemente da come volete chiamarlo il troppo è la situazione in realtà estremamente comune per cui il gruppo di giocatori che è formato da pochi individui con capacità eccezionali anche se quanto pochi e quanto siano eccezionali poi dipende dal regolamento che state utilizzando comunque che si opporranno a quella di cui abbiamo parlato nei mesi precedenti la vasta organizzazione malvagia o comunque a un gruppo molto più grosso e potente di loro e alla fine quasi sicuramente vinceranno questo troppo del piccolo gruppo di eroi che si oppone a lorda molto più vasta e alla fine riesce a prevalere non è qualcosa di tipico nel gioco di ruolo è presente in tutte le forme letterarie ed è qualcosa talmente antico che letteralmente possiamo farlo risalire a davide contro golia che è un mito del il bronzo mantenere questo concetto però non è così facile perché letteralmente come abbiamo detto un piccolo gruppo che si oppone a un gruppo molto più grosso verosimilmente è destinato a perdere soprattutto se il gruppo molto più grosso è anche molto più potente di loro quindi molto spesso il master o comunque chi sta scrivendo la storia è costretto a fare dei salti mortali a inserire qualcosa di inverosimile anche solo per giustificare il fatto che il piccolo gruppo di eroi abbia una speranza di battere il grosso gruppo di malvagi se però è così difficile scrivere una storia che abbia questo come tema centrale perché è un mito così antico e diffuso perché in realtà per quanto renda più difficile scrivere una storia verosimile questo tipo di narrativa ha anche dei vantaggi indiscussi che voi come master potete sfruttare per mettere in scena una storia migliore e quindi migliorare l'esperienza di gioco dei vostri giocatori il primo è probabilmente il più evidente è che un piccolo gruppo di eroi favorisce molto l'immedesimazione dei giocatori nei loro stessi personaggi dopo tutto i giocatori stessi sono un piccolo gruppo di persone che si riunisce per giocare una quest allo stesso modo in cui i loro personaggi sono un piccolo gruppo di eroi che si è riunito per compiere un'impresa tra l'altro il fatto che i personaggi siano un gruppo piccolo e relativamente meno potente li spinge a girare sempre assieme per protezione reciproca e questo è un grande vantaggio nella gestione poi della quest al tavolo se il party è unito ogni volta che succederà qualcosa siete sicuri come master che coinvolgerà tutti i personaggi quando c'è da combattere tutti combattono quando c'è da discutere tutti discutono quando c'è un enigma tutti sono lì per ragionarsi assieme un gruppo molto vasto potrebbe avere la tendenza di dividersi per fare più cose contemporaneamente questo però se ha senso all'interno della fiction portato nel mondo reale vuol dire che voi dovrete continuamente interrompere la narrazione di un gruppo per saltare all'altro allungando molto i tempi e causando dispersione ovviamente non vuol dire che l'unico modo per raccontare questa storia sia che i personaggi sono gli unici che stanno combattendo contro il grande nemico ma anche se hanno una loro organizzazione abbiamo visto in un video precedente che potrebbero essere all'interno di un gruppo più vasto probabilmente loro saranno quelli che avranno comunque più possibilità di successo o comunque quelli che compiono le azioni più dirette quindi più interessanti da essere raccontate anche perché detto francamente è quello il tipo di storia interessante da raccontare a un gioco da tavolo pensate a una quest in cui quando i personaggi ritornano dal dungeon al villaggio scoprono dal barista del villaggio che il signore del male è stato sconfitto da un altro gruppo di avventurieri che stava passando così di lì per caso mentre loro stavano ammazzando degli orchi in un buco ma probabilmente sarebbe anche più verosimile però difficilmente sarebbe il tipo di storia che i vostri giocatori avrebbero così tanto piacere nel partecipare a questo punto però sembra ovvio domandarsi perché per quanto sia perfettamente razionale scegliere un piccolo gruppo di eroi come protagonisti scegliere come loro avversario un grande gruppo molto più potente di loro e tecnicamente non è indispensabile ci sono un sacco di quest anche storie in linea generale in cui gli eroi devono affrontare avversari grosso modo intorno allo stesso livello di potere se non anche molto più scarsi di loro volendo fare un esempio per tutti moltissime storie di investigazione partono dal presupposto che il gruppo di investigatori si stia confrontando con un unico assassino un unico criminale che sicuramente non è un avversario che possa mettere in crisi un intero gruppo di investigatori e anzi molte di queste storie che non richiedono neanche ci sia poi un chissà quale epico combattimento finale una volta che i giocatori hanno messo insieme gli indizi e scoperto chi è l'assassino e dove si sta nascondendo vanno a prenderlo e questo semplicemente dopo aver fatto un monologo si arrenderà e si farà arrestare e queste storie sono ottime fintanto che si sta portando al tavolo qualcosa di estremamente focalizzato e anche poi in mente relativamente breve proprio come una storia investigativa potreste organizzare per i vostri giocatori un'intera quest che si svolge tutta all'interno di un'unica torre del mago i giocatori dovranno inizio della quest entrare nella torre combattere contro qualche servitore del mago magari superare qualche trabocchetto enigma e alla fine confrontarsi contro il mago nella stanza più alta della torre per sconfiggerlo e porre fine alla sua minaccia qualunque questa fosse i vostri giocatori ovviamente si divertiranno un sacco è una quest ottima soltanto che ha pochissime possibilità di essere portata avanti senza introdurre altri elementi una volta che il mago è sconfitto e la sua minaccia si è fermata semplicemente la storia è finita ma al che vada il gruppo potrà andare avanti con un'altra storia che avrà poco a che fare con questa a meno che una volta sconfitto il mago non si scopra che il motivo delle sue azioni malvagie non dipendeva il tutto da lui ma c'è un cattivo ancora più grosso ne abbiamo parlato nel video riguardante all'organizzazione del male ve lo lascio linkato qua ma questo è appunto il principale motivo per cui un'organizzazione più vasta e potente è estremamente utile potenzialmente ogni volta che i giocatori arrivano al finale di una quest ne possono immediatamente iniziare un'altra che sia coerente con quella che hanno appena finito e che dia loro il senso di un'epopea molto lunga e anche epica un'organizzazione molto vasta inoltre vi dà molte più possibilità di inserire in gioco tutti i tipi di minacce sia narrative che meccaniche che vi vengono in mente per mettere i bastoni tra le ruote ai vostri personaggi giocanti lo abbiamo visto nel video in cui abbiamo parlato degli archetipi dei malvagi vi lascio anche questo linkato qua in alto ecco ognuno di quegli archetipi rappresenta un tipo diverso di minaccia per i vostri giocatori un'organizzazione vasta potrebbe comprendere uno per ognuno di quegli archetipi o magari svariate istanze dello stesso archetipo incontrati in momenti e circostanze diverse e quindi avere uno spettro estremamente ampio di minacce possibili per i giocatori il suo vantaggio principale rimane però quello di essere una minaccia che verosimilmente non si esaurirà in tempi brevi più è vasto un gruppo infatti più è verosimile che per quanto i giocatori riescano avere delle vittorie queste non siano così significative certo gli eroi potrebbero aver difeso il villaggio da il gruppo di razziatori che aveva cercato di saccheggiarlo ma se questi razziatori fanno parte di una vasta orda di predoni che si sta muovendo nella regione anche se i giocatori ne hanno ammazzati un paio di dozzine la minaccia dell'orda non è significativamente diminuita e voi come master potrete continuare a utilizzarla più volte senza che i vostri giocatori comincino a domandarsi da dove arriva tutta questa gente e anche se magari nelle fasi più avanzate della quest i danni che i personaggi giocanti riescono a infliggere all'organizzazione malvagia siano diventati significativi se l'organizzazione è veramente molto vasta anche se un grosso blocco di essa viene distrutto rimane comunque verosimile che restino in giro sparsi per l'ambientazione ancora abbastanza membri che sia plausibile che questi scappino riconsolidino e magari tornino dopo qualche altra quest nuovamente come minaccia dopo essersi riorganizzati infine diciamo che un'organizzazione veramente vasta potrebbe richiedere molte sessioni magari mesi magari anni interi di campagna con alti e bassi per i personaggi giocanti ma anche per i giocatori stessi e questo vuol dire che quando nel finale della quest i giocatori riusciranno davvero a sconfiggere i malvagi ne avranno una grande soddisfazione molto più grande di quella che avrebbero a sconfiggere il singolo mago appollaiato in cima alla torre che poi in mente un paio di settimane dopo si sarebbero anche dimenticati di aver affrontato ovviamente però resta ancora il problema che è comunque inverosimile che un piccolo gruppo di eroi riesca a battere una grande organizzazione potente per quanto questi due elementi siano ottimi per scrivere una storia non vuol dire che allora il problema sia scomparso però questo video è già durato fin troppo quindi per questa settimana ci interrompiamo qui ma andremo avanti tra un paio di settimane andando a esplorare proprio questo punto cioè come rendere coerente all'interno della vostra storia una situazione in cui effettivamente gli eroi hanno la possibilità di vincere e questa volta a farlo non sarò da solo perché ho chiesto l'aiuto della community dato che questo video arriva direttamente da loro quindi non avrete soltanto la mia spiegazione ma anche le loro proposte fino ad allora la parola sta a voi scrivetemi qui sotto nei commenti se avete domande dubbi o perplessità o scrivetemi magari di quella volta in cui effettivamente gli eroi sono riusciti a sconfiggere la grande organizzazione malvagia e magari anche di quella volta e sono riusciti a sconfiggerla molto prima di quella che voi come master avevate previsto andiamo non vince sempre il torero come sempre se il video vi è piaciuto iscrivetevi e scacciate la campanella per ricevere le notifiche se le notifiche non vi arrivano in descrizione trovate il link al server di discord al gruppo i telegram dove metto io i video manualmente e da dove nascono le proposte per progetti come questo come sempre io sono il master cae e noi ci vediamo nel prossimo video